Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su Telebari. Partiamo subito dalla cronaca. Le attività dei centri scommesse non hanno nulla a che fare con il clan Parisi. E in sintesi, quanto ha sostenuto Tommy Parisi, il figlio cantante del boss del quartiere Apigia di Bari, Savinuccio, nell'interrogatorio di garanzia in carcere. Tommy Parisi è stato arrestato venerdì scorso dopo due giorni di latitanza perché coinvolto nell'indagine della DDA di Bari sulla presunta gestione di un giro di scommessi online illegali che ha portato in carcere altre 21 persone. Se ci sono responsabilità legate alla gestione delle società, si è difeso il figlio del boss assistito dall'avvocato Nicola Lerario, si tratta eventualmente di scelte imprenditoriali sbagliate ma che non c'entrano nulla con l'attività del clan mafioso. Tommy Parisi, indagato per trasferimento fraudolento di beni con l'aggravante mafiosa, la procura di Bari contesta di aver intestato fittiziamente a quattro prestanome altrettanti centri scommesse con sede a Bari in provincia. A quanto si apprende nell'interrogatorio in carcere è anche ribadito che quando è stato arrestato dalla Guardia di Finanza sotto la sua casa nel rione Iepigia stava andando a costituirsi. 30 nuovi carabinieri già operativi nel capoluogo pugliese. L'annuncio questa mattina dal coordinamento della Lega Barese. Grazie a Matteo Salvini, grazie alla Lega, da oggi ci sono 30 carabinieri in più soltanto per la città di Bari. Abbiamo avuto informazione che questi 30 carabinieri sono tutti appena usciti dai corsi, quindi sono carabinieri giovani, non parliamo di carabinieri avanti negli anni o prossimi alla pensione, carabinieri che poi sono stati magistralmente già organizzati per un servizio anticrimine che prevede il pattugliamento con il carabiniere di prossimità, quindi carabiniere che si fa strada per strada, attività per attività, negozio per negozio, oltre alle stazioni mobili che sono già state dislocate per i quartieri di Bari. L'annuncio arriva a pochi minuti dall'ufficialità della notizia, subito dopo l'incontro con il prefetto di Bari. Sono arrivati una settimana fa e sono già operativi sul territorio barese, 30 nuovi carabinieri in terra di Bari. La città di Bari chiama, la Lega e Matteo Salvini rispondono. È venuto qui soltanto qualche mese fa il ministro a garantire alla città di Bari più sicurezza, più controlli e un'attenzione preminente da parte del governo della Repubblica Italiana. Così è stato e rispetto agli altri politici che annunciano, promettono e molto spesso dimenticano, Matteo Salvini ha fatto esattamente il contrario, non ha annunciato assolutamente niente, si è mosso in maniera determinante. È stata garantita la possibilità di riattivare il servizio del carabiniere di prossimità. Noi avremo l'opportunità di poter percepire la sicurezza con la presenza costante di questi carabinieri nelle piazze e nei giardini che sono stati abbandonati da questa amministrazione. Ancora cronaca, armato di pistole con il volto travisato, è entrato in una rivendita di tabacchi del quartiere Libertà e dopo aver minacciato il titolare si è impossessato della somma di circa 800 euro per poi allontanarsi a bordo di un ciclomotore. È successo il pomeriggio del 29 agosto scorso e sabato mattina dopo circa due mesi di indagini la polizia ha arrestato il 34enne pregiudicato barese, Alfonso Panza, che adesso dovrà rispondere di rapina aggravata. L'arrestato, che annovera precedenti di polizia e anche specifici, è stato rintracciato presso l'abitazione del padre e condotto presso il carcere di Bari. Voltiamo decisamente pagina. Sottoscritto questa mattina l'accordo di collaborazione tra il sindaco di Bari Antonio De Caro e il presidente della Camera di Commercio per l'avvio al progetto sperimentale Terra di Bari Guest Card. All'incontro presente anche il presidente di Federalberghi Puglia e Bari e Bat, Francesco Caizzi. La Bari Guest Card permetterà una gestione insieme agli operatori economici di quella che è una leva economica importante per noi, che è il turismo e lo faremo in maniera collegiale, coordinata con i 41 comuni dell'area metropolitana di Bari. Paline informative, visualizzatori per la realtà aumentata davanti ai beni culturali, davanti ai musei dei nostri centri storici, delle nostre città, audio guide, un portale per tutta l'area metropolitana di Bari. È un visitor center, un luogo nel quale si potranno guardare tutte le bellezze dei comuni dell'area metropolitana di Bari che poi speriamo di allargare a tutta la regione. Raccoglie il testimone della Bari Guest Card e si chiamerà Terra di Bari Guest Card. Non sarà semplicemente una carta turistica per l'accesso a tariffe scontate in alcuni contenitori e esercizi convenzionati, ma uno strumento che garantirà l'agibilità delle risorse e la semplificazione alle informazioni e i servizi, grazie alla realizzazione di un sistema telematico per la promozione dell'organizzazione e dell'accoglienza. Un'unica carta quindi con la quale i visitatori e i turisti potranno accedere a musei, i castelli ed altri esercizi convenzionati. La Guest Card come lo schipasse? In che senso? Che è un'evoluzione, lo schipasse nasce come uno strumento soltanto per andare a sciare, oggi lo schipasse è uno strumento moderno che serve per visitare i musei, per utilizzare i mezzi pubblici e quindi è un punto di partenza che si è evoluto. E noi dobbiamo fare la stessa cosa, cioè la Guest Card è uno strumento di marketing evoluto che serve da una parte a raccogliere informazioni, dall'altra parte dare l'accesso ai turisti, il più grande numero di attrattori culturali, turistici e balneari e infine uno strumento di promozione. E il consigliere comunale Michele Caradonna, il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Bari, ad annunciare il nuovo incarico oggi in conferenza stampa Palazzo di Città, il consigliere comunale e coordinatore provinciale Filippo Melchiorre, il consigliere coordinatore regionale Erio Congedo e l'onorevole Marcello Gemmato. Michele Caradonna è da sempre impegnato politicamente in difesa dei diritti dei più deboli, dichiarano in una nota congiunta i dirigenti di Fratelli d'Italia e persona specchiata che ha scelto di aderire al programma e agli obiettivi del partito di Giorgia Meloni in Puglia di impegnarsi sul campo. Anche lui, come tutta la squadra di Fratelli d'Italia, ha onorato gli ideali e non le poltrone ed è per questo che oggi la scelta di affidarli il partito in città ricade su di lui. E il Comune di Bari risponde al repentino cambio di temperatura. Ha già predisposto il piano per l'emergenza freddo, che quest'anno vedrà tante novità, a illustrarcele l'assessore al welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico. Quest'anno ci sono delle grandi novità che in un certo senso speriamo possano migliorare maggiormente la qualità di vita in queste giornate. In particolar modo non c'è più l'emergenza in termini di numeri dei senza dimora sulla città di Bari. Infatti è stato chiuso il campo della Croce Rossa e tutte le persone residenti che trovavano ospitalità presso il campo e presso anche il ferrotel ora si trovano nelle case di comunità. Perciò ci saranno anche dei presidi che per tutta la giornata in maniera residenziale offrono accoglienza e tutela. Inoltre il servizio pubblico di somministrazione dei pasti, di distribuzione di abiti sarà presente sempre e aperto, fruibile, dal lunedì alla domenica per tutti i giorni rossi, dalla mattina alla sera, una serie di iniziative che prevederemo il giorno di Natale piuttosto che a fine anno in tutte le giornate rosse. E' stato intercettato dagli agenti della polizia locale nei pressi di Punta Perotti, è stato seguito e è stato fermato a Torre a Mare dopo le verifiche del caso, è stato multato per trasporto di rifiuti speciali in assenza delle opportune autorizzazioni. Il protagonista dell'illecito, un autotrasportatore di Pallo del Colle, il carico che trasportava infatti, composto da quattro bustoni di rifiuti e un mix di materiale da cantiere, viaggiava senza essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione. Dai riscontri degli agenti, anzi, è emerso che l'ultimo verbale compilato nel libretto d'accompagnamento che l'azienda edile è obbligata a stilare prima di ogni trasporto, era datato 2 agosto 2018, per l'uomo quindi è scattata l'inevitabile sanzione. Il vero potere è sapere quali informazioni ignorare, così il professor Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence all'Università della Calabria e autore del volume Aldo Moro, l'intelligence, il senso dello Stato e la responsabilità del potere, presentato questo pomeriggio all'Ateneo di Bari. Un Aldo Moro inedito, quello che viene fuori dal suo libro? Esattamente, un Aldo Moro che si confronta con i problemi dello Stato, lo fa in un'epoca molto difficile e complessa, come quella della Guerra Fredda, che era una guerra di spie che si combatteva attraverso l'intelligence. E Aldo Moro dal 1946 al 1978 è un protagonista assoluto della vita politica del nostro Paese e in Italia succede di tutto in questo periodo. E Aldo Moro è sempre lì, puntuale, presente, a tutelare gli interessi dello Stato, a garantire il bene della Repubblica. Si parla di responsabilità del potere. Certo, perché ogni uomo di Stato, ogni vero uomo di Stato, non può che essere un grande uomo di intelligence, perché le informazioni che provengono dall'intelligence sono fondamentali. L'intelligence non è una materia esoterica per pochi, ma è invece uno strumento per tutti, per sopravvivere in questa che è la società della disinformazione, che si realizza con l'eccesso di informazioni da un lato e il basso livello di istruzione dall'altro. Non a caso, Yuval Noah Harari, in uno dei suoi ultimi libri, afferma che oggi il vero potere è sapere quali informazioni ignorare. Siamo alla pagina sportiva, oggi la prima esclusiva in diretta al TV Sport. Tospite, in studio di Enzo Tamborra, il difensore del Bari Valerio Di Cesare, che ha parlato, tra l'altro, del suo compagno di squadra mattere. Allora, guardiamo insieme a Nostralcio. Secondo me, lui poteva fare sicuramente di più, poi non so la sua carriera come è stata, però forse prima il calcio era diverso, c'era più qualità, poi non so, rispetto ad adesso. Però, come ho detto prima, lui è un ottimo giocatore che poteva benissimo giocare in B o comunque in C. E vi ricordiamo che la replica del TV Sport andrà in onda alle 23.30 su Telebari e Radio Bari. Per il momento ci fermiamo, qualche secondo di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con altre notizie. Rieccoci in diretta con l'edizione serale del nostro telegiornale. Il Tribunale dell'esame di Bari ha revocato gli arresti domiciliari alle quattro maestre arrestate lo scorso 26 ottobre per presunti maltrattamenti su decine di alunni di tre anni di una scuola materna del barese. A quasi un mese dall'arresto i giudici hanno ritenuto attenuate le esigenze cautelari e accogliendo le stanze dei difensori, gli avvocati Beppe Montebruno, Francesco Paolo Sisto e Luigi Langman hanno sostituito gli arresti domiciliari con l'interdizione dall'attività lavorativa per un anno. Le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Bari hanno documentato con intercettazioni video nella classe episodi quotidiani di presunti maltrattamenti su almeno 13 bambini strattonati trascinati sul pavimento fino a cadere, minacciati di essere legati con le corde o fatti mordere da un cane. Quando sono state interrogate alcune delle quattro insegnanti si sono difese giustificando le loro condotte come scelte educative. 30 nuovi carabinieri già operativi nel capoluogo pugliese. L'annuncio questa mattina dal coordinamento della Lega Barese. Grazie a Matteo Salvini, grazie alla Lega. Da oggi ci sono 30 carabinieri in più soltanto per la città di Bari. Abbiamo avuto informazione che questi 30 carabinieri sono tutti appena usciti dai corsi quindi sono carabinieri giovani, non parliamo di carabinieri avanti negli anni o prossimi alla pensione. Carabinieri che poi sono stati magistralmente già organizzati per un servizio anticrimine che prevede il pattugliamento con il carabiniere di prossimità quindi carabiniere che si fa strada per strada, attività per attività, negozio per negozio oltre alle stazioni mobili che sono già state dislocate per i quartieri di Bari. L'annuncio arriva a pochi minuti dall'ufficialità della notizia subito dopo l'incontro con il prefetto di Bari. Sono arrivati una settimana fa e sono già operativi sul territorio barese. 30 nuovi carabinieri in terra di Bari. La città di Bari chiama, la Lega e Matteo Salvini rispondono. È venuto qui soltanto qualche mese fa il ministro a garantire alla città di Bari più sicurezza, più controlli e un'attenzione preminente da parte del governo della Repubblica Italiana. Così è stato e rispetto agli altri politici che annunciano, promettono e molto spesso dimenticano Matteo Salvini ha fatto esattamente il contrario, non ha annunciato assolutamente niente, si è mosso in maniera determinante. È stata garantita la possibilità di riattivare il servizio del carabiniere di prossimità. Noi avremo l'opportunità di poter percepire la sicurezza con la presenza costante di questi carabinieri nelle piazze e nei giardini che sono stati abbandonati da questa amministrazione. E il consigliere comunale Michele Caradonna, il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Bari ad annunciare il nuovo incarico, oggi in conferenza stampa a Palazzo di Città, il consigliere comunale, coordinatore provinciale Filippo Melchiorre, il consigliere coordinatore regionale Erio Congedo e l'onorevole Marcello Gemmato. Michele Caradonna è da sempre impegnato politicamente in difesa dei diritti dei più deboli, dichiarano in una nota congiunta i tre dirigenti di Fratelli d'Italia. È persona specchiata che ha scelto di aderire al programma e agli obiettivi del partito di Giorgio Meloni in Puglia e ad impegnarsi sul campo. Anche lui, come tutta la squadra di Fratelli d'Italia, ha onorato gli ideali e non le poltrone ed è per questo che oggi la scelta di affidarvi il partito in città ricade su di lui. Il Comune di Bari risponde al repentino calo delle temperature. È già predisposto il piano per l'emergenza freddo con alcune novità, ad illustrarcele l'assessore al welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico. Quest'anno ci sono delle grandi novità che in un certo senso speriamo possano migliorare maggiormente la qualità di vita in queste giornate. In particolar modo non c'è più l'emergenza in termini di numeri dei senza dimora sulla città di Bari, infatti è stato chiuso il campo della Croce Rossa e tutte le persone residenti che trovavano ospitalità presso il campo e presso anche il ferrotel ora si trovano nelle case di comunità. Perciò ci saranno anche dei presidi che per tutta la giornata in maniera residenziale offrono accoglienza e tutela. Inoltre il servizio pubblico di somministrazione dei pasti, di distribuzione di abiti sarà presente sempre, è aperto, fruibile, dal lunedì alla domenica per tutti i giorni rossi, dalla mattina. La sera è una serie di iniziative che prevederemo il giorno di Natale, piuttosto che a fine anno, in tutte le giornate rosse. Ricevimenti, l'imprenditore Michele Boccardi, eletto presidente della sezione di Confindustria Bari e Batti. Intanto domani a Roma partirà un tavolo nazionale con le regioni più rappresentative del comparto che sarà coordinato proprio dal neopresidente barese. 330 milioni di fatturato sviluppati in un anno, un incremento previsto per il 2018 del 6,8%, cui va aggiunto anche l'indotto pari al triplo. Il settore ricevimento di Confindustria Bari e Batti ha la sua nuova voce. Michele Boccardi è stato eletto presidente della giovane sezione dell'Associazione degli Imprenditori, nata dall'esigenza di rappresentare le istanze di un settore che, soprattutto in Puglia, sta rivestendo un ruolo sempre più importante. Si pensi che nella sola area Bari e Batti sono attivi ben 150 operatori. Il neopresidente, che sarà in carica per i prossimi quattro anni, sarà affiancato dai vicepresidenti Stella Albertini, Giuseppe De Grecis ed Elena Longo. Due dei primi punti al tavolo, annuncia Boccardi, saranno la lotta all'abusivismo e la crescita del wedding tourism. È un risultato storico non solo per il settore in Puglia, ma vi anticipo per tutta l'Italia. Domani la Puglia sarà riunita a Roma in un tavolo tecnico che si pone l'obiettivo di esportare questo progetto di associazione delle società più importanti nel settore degli eventi e dei ricevimenti a livello nazionale. L'obiettivo è non solo integrare queste strutture in un sistema economico reale, ma soprattutto mettere insieme tutta una serie di imprese che possano rappresentare a livello qualitativo il settore nel wedding all'estero. E proprio nella sede di Confindustria Bari e Batte è stato annunciato oggi il primo evento di H-Revolution, l'innovativa associazione dedicata alle risorse umane. H-Revolution nasce dalla necessità di far fronte alla richiesta di un confronto continuo sul tema delle risorse umane, spiega Dino Manzi, responsabile delle HR del gruppo Megamark e mira a creare un gruppo partecipativo all'interno del quale prenderemo a cuore i giovani che si vogliono affiancare a questo mestiere e i responsabili delle risorse umane che lavorano fuori dal nostro territorio per riportare così qui al sud i nostri talenti. L'incontro dal titolo Dialoghiamo su motivazione e coinvolgimento delle persone avrà luogo domani 20 novembre alle 18 presso il locale Stammi Bene in via Nicolai 31A e vedrà l'intervento della professoressa di organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane dell'Università Bicocca di Milano, Barbara Quacquarelli. E per questa edizione è tutto, in chiusura vi ricordiamo l'appuntamento con Chiama De Caro il format condotto da Alessandra Bucci in diretta subito dopo il nostro telegiornale ospite in studio come ogni lunedì il primo cittadino Antonio De Caro potrete interagire con noi anche attraverso la diretta sulla nostra pagina Facebook grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Un cordiale saluto, un ben trovati da Nikos di Trevi Meteo una via di settimana ancora bagnato per la nostra penisola perché è un via vai di perturbazioni dopo una breve sosta durante la settimana scorsa guardate come la porta atlantica sulla Spagna è nuovamente spalancata una zona di bassa pressione sarà in viaggio nel corso di martedì dal Mediterraneo centrale verso il Tirreno piogge, acquazioni su diverse località un po' meglio verso sera ma andiamo a vedere la nuvolosità giornata con cieli spesso grigi da nord a sud, cielo fosco e precipitazioni la prossima grafica ci fa vedere meglio dove attenzione ai colori viola piogge anche intense sulle regioni centrali specie al lato tirrenico ma guardate macchioline blu sono distribuite su molte regioni della nostra penisola quindi diciamo che qualche scroscio di pioggia potrebbe interessare molte zone non si salva nessuno andiamo a vedere poi quello che succede più che altro per la neve le nevicate sulle montagne del nord e l'appenino settentrionale a quote basse quote collinari soprattutto non è escluso qualche fiocco di neve fin verso i settori pedemontani dell'Emilia o al più pioggia mista a neve temperature fredda al nord Italia non si va oltre i 5-7 gradi in giornata i dettagli ulteriori sull'app di Trevi Meteo musica Grazie a tutti.